Ah la festa delle anime perdute è tornata Che cazzo Signore e signori la vecchiaccia Eva Levante è tornata in torre Ci ha portato un sacco di zucche, di candeline belle, di engrammi che ovviamente non possiamo raccogliere C'è un fantastico albero in cui ci possiamo arrampicare bestemmiando svariate volte perché Dicevo un fantastico albero in cui ci possiamo arrampicare per prendere delle caramelline E ci sta ragazzi la torre è addobbata a festa, ci sono gli engrammi che piovono Abbiamo le nostre fantastiche maschere di Omnigul, del Ramingo, di Callus Tutte le maschere che appunto ci sono sempre state Abbiamo delle fantastiche emote, dei fantastici spettri, astori e... Ah no Ah 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 no Sono solo scioppabili Ah no scusate ho sbagliato scusate Ci sono le zucche intorno, siamo tutti felici, tutti colorati Qui c'è una palla a forma di zucca E il tutto ci porta ad una fantastica cosa No aspetta ma io questa l'ho già vista Riccanto Pobre No no raga l'ho già vista io questa Ah Ah No vabbè ma sarà diverso no Hanno messo un'arma, un'altra arma sarà diversa Per forza cioè non c'è altra spiegata Sono la stessa arma Cioè ragazzi l'unica cosa che cambia tra queste due armi Oltre al prodotto di Tate che è talmente minuscolo Che alla fine cambia veramente poco in un momento di ricognizioni Sono i perk, è vero ha dei perk migliori Momento zen e caricatore multi uccisione Devo dire che ha dei perk migliori Ma sinceramente io di farmi una quest che dura un casino Perché ho visto che dura un casino Io non l'ho nemmeno toccata quella quest Guarda Sono arrivato al secondo step Giusto perché volevo prendermi qualche maschera L'ho comprata Ma vi giuro che non la toccherò mai più Perché questa è veramente una quest di merda Io la foresta infestata, l'attività più inutile Più inutile di tutto Destiny Non me la farò mai più Pungi Io spero che tu mi stia sentendo Grazie Di conseguenza dato che questo fantastico licanto Pobre è arrivato nelle nostre vite Per sconvolgere e rimanere il crogiolo E tutti quanti ci hanno fatto un video Io mi impunto E andiamo a fare il video oggi Sul lupo invernale Bay Automatico che è uscito un sacco di tempo fa E che io sin dal primo momento ho amato Ma andiamo subito a vedere come si comporta Questa divertissima arma in crogiolo Oh una mappa Eh sì magari si riattivo l'opacità Una mappa E una modalità che si addicono Alla bellezza di questo evento Ovvero entrambe di merda Ma andiamo a vedere subito quest'arma Perché ragazzi è un'arma innovativa Mai vista prima Fantasiosa Riesce a uccidere le persone Riesce a uccidere le persone Anche che ci guardano E che ci sparano Incredibile Non l'ho capito questo Va bene È straviliante ragazzi Riesce a killare quest'arma Ma allora forse Ma allora forse non è proprio Diversa da quella nuova Ma allora forse Ma allora forse Bungie è un genio ragazzi È riuscito a creare Un'arma veramente innovativa Mai vista prima Ok la smetto di fare il cazzone E vi dico essenzialmente Per quale motivo Sono arrabbiato Sono arrabbiato perché il festival Delle anime perdute Fa cagare Quest'anno più degli altri Già gli anni passati Quando mi hanno messo La foresta infestata Morga La foresta infestata Che modalità di merda è E me la tirano fuori Ad ogni evento Ad ogni cazzo di evento nuovo Che non sanno cosa mettere Foresta infestata Perché? Perché sì Perché foresta infestata Is the new black Poi no vabbè certo Non è sempre la foresta infestata Perché ovviamente Dici che il mio nome Diventa tutta una modalità Ma quello che mi dà Veramente veramente fastidio Oltre alla foresta infestata E il cazzo Che hanno rotto le palle Basta È il fatto Che dopo un DLC Che Diciamocelo A livello di contenuti Non è stato Un DLC Che secondo me Si meritava I 40 euro Che abbiamo speso E è la prima volta Che lo dico Perché io Non dico mai Una cosa del genere Sono sempre A favore del lavoro Che fa Bungie Ma questa volta C'è da dire Che Io 40 euro Forse Li avrei spesi lo stesso Perché è Destiny Ma Effettivamente Non li vale Secondo me Questo DLC Perché Non ha abbastanza contenuti Per darmi Per farmi spendere 40 euro A mio parere Poi ovviamente Vi lascio il sondaggino Se mi ricordo Se vi è piaciuto Questo DLC Se pensate che Il rapporto qualità prezzo Sia abbastanza elevato O se invece Siete un po' Delusi Dopo un DLC Che quindi Non è stato assolutamente Il massimo Mi metti Un evento Che già di per sé Faceva schifo Perché raga L'unica cosa bella Delle anni perdute È il fatto Che ci siano le maschere Che tuttavia Non si possono Nemmeno utilizzare Che quindi hanno Un utilizzo Prettamente estetico E che dura Nell'ambito Del festival E mai più Che quest'anno Fa quasi più schifo Degli altri anni Perché alla fine Cosa mi hai messo Mi hai messo un'arma Che già avevo Perché è un'arma Che abbiamo tutti Il lupo invernale Gli appiccichi Il solito Shader dell'evento Che come al solito Ovviamente Le armature dell'evento Sono solamente Shoppabili Non c'è nemmeno La cosa Che come una volta Si potevano O comprare O almeno Ho filato tantissimo O almeno trovare Nei pacchetti Perché i pacchetti Non ci sanno più I pacchetti degli eventi L'hanno eliminato Anche quelli Una delle poche cose Decenti E di conseguenza Mi rimettono A questa lunghissima Pallosissima Per un'arma Che già ho E che semplicemente Cambia di qualche perk Ma perk Che comunque Non la fanno La rendono utilizzabile Nel cogiolo di adesso Che diciamo C'è un cogiolo di adesso Non è per niente Un cogiolo Da automatici Soprattutto di questo tipo E basta essenzialmente Perché Ripeto Le uniche cose Che hanno messo Sono le maschere Che tuttavia Rimangono inutili E le armature Che sono come al solito Shoppabili Ora Io avevo Chiuso un occhio Per quanto riguardava L'espansione Perché comunque La storia mi era piaciuta Per esempio La segreta mi è piaciuta Alcune cose in generale Mi sono piaciute Non era ricchissima Di contenuti Ma comunque Era un'espansione Che ci stava Però Però Dico io Gli eventi Che sono essenzialmente L'unica cosa da fare Nei momenti di Pausa Di questo gioco Che non si può dire Non ci siano Assolutamente Sono veramente Anche tanti I momenti di pausa In questo gioco Gli eventi Dicevo che sono L'unica cosa Che bene o male Ci tiene Attaccati al gioco In questi momenti di pausa Io Le avrei spinti un po' di più Tu vuoi morire o no? No Quanto pare no Ma anche per un discorso Di marketing Cioè Non è essere stupido Imbecile Tu hai il vetro nel cervello Lo sai che La gente dopo un po' Si stufa Per esempio Quanto sarebbe più carino Se ci fosse una mini storia A tema A tema dell'evento A ogni evento Una cosa semplice Tipo 3 o 4 missioni Che non siano Particolarmente Difficili da fare Senza magari Cinematiche particolari Che però Ci starebbe Penso che comunque Già sarebbe qualcosa Di più gradito Quindi basta Mi sono sfogato E nel frattempo Ho fatto anche vedere Che il loop Invernale Brain Non è per niente male Se riuscissi a prendere Il nemico in testa Ma quello è un altro discorso Ovviamente Nel meta attuale Non è che sia Più già utilizzabile Ci sta divertente Ma Contro un ricognizione Viene asfaltato Pesantemente E quindi Vi lascio con questa domanda Siete d'accordo Con quello che ho detto Nel video Quindi con la mia opinione Degli eventi di Destiny E anche del DLC Tu che problemi hai Nella vita Mi spieghi che problemi hai Nella vita Oppure La pensate diversamente Mi piace assolutamente Quello che sta facendo Bungie In generale Cosa ne pensate del DLC Fate riuscire a prendere Nei commenti E io direi Che ci vediamo Al prossimo evento bellissimo Ciao Ah Mi hai dato 4 monetini Di cioccolato Allora no raga Cambio idea totalmente Cioè Nel senso Stavano un momento di cioccolato Pauroso Siamo la tua Salvezza Grazie a tutti Grazie a tutti